Hey guys, falla galera la chicos, ciao ragazzi, bentornati su una gara parkour con lo zio Alphix Oggi in Batty, vediamo un po' un funny parkour, così si chiama, la Batty era quella raccomandata Ecco, consigliata, raccomandata è bruttissima di dire in italiano, recommended in inglese Qui partiamo quasi con una specie di bandiera ungherese, italiana, con i colori italiani Andiamo così, di impennata Guarda questo come vola, ma che è? C'è il contatto? Raga, me la senti a contatti? No, spettacolo qui Spettacolo, no, 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 fate il bastardone Che cazzo devo andare? Non sono caduto Buono così, dai, levatevi Vabbè raga, ora senza cattiveria, quindi senza proprio Volevo dire, con la cattiveria Senza scrupoli e nulla, buttiamo tutti per aria Guarda, meno male questo c'è Uff, si è salvata all'ultimo quello Se no avevamo sbagliato completamente curva raga Sì, 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 levate Madonna, ma non sto capendo nulla, che cos'è sto con l'abilità? Levatevi, levatevi Porco zio, levatevi No, levati Ok, queste hanno preso anche la BF400 Non è una brutta scelta raga, effettivamente Qua bisogna salire, quindi Levatevi davanti al cazzo Levati Levati Annaccia raga Che cos'è qui? Saltone Ecco inizio il parkour Inizio il parkour Basta che non mi buttate Ok, non mi hanno buttato Incredibile ma vero Saliamo qui No, no Ma ti dritto Dritto Non fare il paraplegico Non moriamo Incredibile Questo sembrava che avesse quasi la No, vabbè Spettacolo Spettacolo puro Sì Raga Forse ho cittato Ma non me ne fotto un cazzo Raga, siamo in seconda Quello è il primo Ma che? Già lo sanno questi Già lo, già Alcuni secondo me già sanno Raga, la cazzo di cara Come cazzo fanno Facciamo quello a sapere Di andare così veloce No, no Raga, brutta sta cosa Questa cosa ci farà perdere Un fottio di tempo Raga One, two One, two, three Andiamo così Andiamo così Sì Sesta posizione Mannaggia Avevo fatto Tutto alla grande Velocissimo Per recuperare la prima posizione Ok Dai Non ci dobbiamo Abbattere Che cosa è questo? One ride a sinistra Però giusto? No No Perché non è andata Perché se andassi a destra Direttamente a tagliare Sì Ci siamo Non perdere Le vasta classifica Oh, 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 oh Ragazzi Sì Sì ci siamo Rallentamento perfetto E tattico Quinta posizione Dove casca Dobbiamo andare giù Quindi sto checkpoint Sì, birillo Vai, vai, vai Impennato Perché sta sopra il checkpoint? L'ho preso Non penso non so come Vediamo qua Loop Che cavolo è Dove sto? Ragazzi non sto capendo nulla L'importante è andare però Oh, oh, oh Attenzione Vai piano Vai piano Siamo in terza Ragazzi siamo in terza Non mi spingere No Ma che stavo combinando Ragazzi C'è il primo lì Oh, oh, oh Sta parte qui È infame Sta parte qui Sembra veramente infame Ragazzi Dai, dai, dai Secondi Non c'è il primo Ragazzi Non siamo primi No, ragazzi Potevamo arrivare primi Se non sbagliamo Quella parte lì Mannaggia la pressione Di quello dietro Ci ha fatto perdere La prima posizione Peccato Comunque seconda posizione È una gara Tesissima Intensissima Spero che vi sia piaciuta Passiamo ovviamente Alla seconda gara parkour Perché questa è durata Tre minuti Super giù, sì Andiamo subito alla seconda gara Seconda gara parkour Ragazzi Blazer Street Siamo con il Blader Ho voluto scegliere questa gara Così per cambiare un po' Per prendere Anche Qualche volta Il Blader Che quasi mai è usato Nelle gare Guardate quanto è figo Modificato al massimo Partiamo al go E impegniamo pure Guardalo Col contatto ragazzi Quindi Ci saranno delle belle Potranno esserci Però per me no Però per gli altri sì Allora Già si abbiamo preso Un bello spazione Da tutti quelli dietro Attenzione raga Salto Madonna mia Stavo per accappottarmi Stavo per accappottarmi Mamma mia Non si mantiene Allora Eccoli Anche altri Ce l'hanno tutto modificato Fatemi passare Col mio blazerino Mamma mia Non si vede nulla Qui raga Non si vede nulla Perdonatemi se Mi ho fatto diventare ciechi Questa sta con la motocicletta Furbone Bisognava prendere il blazer E tu hai preso la cosa No Eh raga è difficile La manovra sta cosa È davvero difficile Da guidare Pena E due No 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 Ma dà c'è quello No dobbiamo farcela Perché Con le moto Questa parte qui È semplicissima Secondo me dovevo mettere No 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 Sono caduto Porca Avrei dovuto mettere Non le moto modificate Perché poi I furbacchioni Vanno a prendere La Bati La Kuma Attenzione Ok Attenzione Oppure la Sanchez Non mi dico La BF400 Vabbè basta Dove devo andare Ah giù Si scende giù ragazzi Nell'arena E cado col culo Non mi dico Che mi devo fare tutto No raga Sono ritardato No raga Sono ritardato È ufficiale Sono ritardato di brutto Levate No 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 Mamma mia Mamma mia No no Ti prego Piano piano Dai Nike Piano piano Io vado con le ruote in testa Ma perché non gira Ah giù la miseria Io che gira E quello non gira Sto cuore Eh guarda Non gira sto cuore Del cazzo Dobbè andare piano piano Come Ok questo è caduto a terra Cioè guarderamo primi Prima Allora Andiamo piano piano Raga No 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 Guarda si Mamma mia Mamma mia Non cade a terra Che ti uccido Dai Dai levati Levati Raga Oh Checkpoint Finalmente Quarta posizione Andiamo così Nell'arena Con il nostro blazer Vai così Vai così Giriamo così A caso Se non mi devo girare All'altra parte Vado meglio Vado più veloce Vediamo se ho ragione Vai così Blazer Vai 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 Dov'è questo È in aria Sopra Non l'ho preso il checkpoint Mannaggia Dai 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 Queste palle Che restano così Sono spese per aria Prendi il checkpoint Dov'è il checkpoint No Dai 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 Mettiti dritto No 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 Oh Finalmente Non gira Raga Non gira Raga non gira Che cavolo è successo Oh non gira più a destra Raga Sono fottuto Eh non gira più a destra Si ha preso qualche brutta botta Raga Non gira Non gira Ecco il perché prima non girava Magari quando prende qualche Oh quello mi stava mandando a fancuno Oh sbagliato Qua dobbiamo fare Un tipo dobbiamo fare così Ah c'è un buco lì in mezzo Non l'ho visto Allora piano piano Dobbiamo metterci così Vuoi che ti spingo Vai 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 Allora qualcun altro ci deve spingere Spingi spingi No così però No così No come un pazzo Scatenato Allora raga Aspettate Aspettate Porca Eva Ma non gira sta cosa a destra Raga ma in generale proprio Ho il mio gestic No però Però tu che rimani fermo lì No eh Mi dai fastidio Non gira raga Che cavolo è Ah ma forse il mio gestic Che saranno i numeri Ti puoi impegnare a solo Ecco raga Ecco perché non girava Ok si è rotto anche il gestic Vi do questa bella notizia live Devo comprare altri 50-60 euro di gestic A questo punto compro lo scaff No porca Eva Compro lo scaff direttamente Guarda non gira a destra Mettiti dritto Raga raga Non ce l'ho fatta Raga io vado Ci provo Oh finalmente Vai così Vai così Dai così dai così Dai così raga Dai che entriamo qua Dai che entriamo qua Ci siamo Andiamo con il nostro blazerino Mancano addirittura 33 checkpoint È infinita sta gara E io purtroppo non potrò girare a destra Cioè guardate raga Guardate come c'è il mio conversaggio a destra Aspetta 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 Spirale fatta Altra spirale Incredibile Ancora altra spirale Quando finiscono queste spirali No non cag... No raga non ci posso credere Ok raga Ci siamo qua Dobbiamo andare Sulle ruote Sì Davate tu Purtroppo raga sto giocando con l'handicap Del joystick Non è per trovare scuse ma Presidente a destra non posso girare A sinistra sì A destra no Dai 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 così Da così Da così Sì che ci siamo No 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 Non farmi brutti scherzi Sì Guarda guarda come va storto Vai vai così raga Vai che ci siamo Però siamo in quarta Vorrei almeno il podio No c'è nemmeno i fari che è meglio Quelli là lunghi E ci siamo raga Per fortuna Dai così Dai 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 Andiamo 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 Dove devo andare ora Cos'è questa cosa Cosa sto... Gira Dove devo andare raga Ah questa è la... Semplice Pensavo fosse una cosa più No però non gira raga Che fastidio Dopo vado su Amazon E mi compro un altro joystick Fatemi sapere Che joystick devo comprare Che colore E soprattutto se compro invece Uno scappo Perché Non ho preso il check Oh Oh Kevin Mannaggia la miseria Mi fa bestemmiare Ok Per la prima volta sul canale Dai dai così Dai così Sì Sì No 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 Non benissimo Si parkour A volte sono proprio infame Cioè tipo queste Ma guarda Mannaggia No raga cambio gesti Ok raga Cambio gesti Questo non va benissimo All'R2 Per questo che puoi comprare un altro Ne comprai un altro Però almeno questo L'analogico Dovrebbe andar bene Quindi Almeno Almeno questo Siamo in quinta Devo fare qualche Oh Attenzione Ti faccio qualche impennato Si è baggata la ruota Lì dentro Mamma mia Attenzione Una piccola impennatina Una piccola impennatina No no Mamma mia Stavo per cade ora Vabbè da pazzi Oh 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 Sì che ci siamo Possiamo andare anche di qua Sti gran cazzi Siamo in quinta posizione Dove che vado Prendi sto checkpoint Allora Il primo è già terminato Incredibile Appolloni Complimenti a te Prendi sto checkpoint Dai così Bene Ancora raga Ce n'è ancora un altro Si Su Su Giriamoci E andiamo veloci Dai vorrei il terzo posto Quanto manca Un minuto e 45 Il terzo posto Dai così Un po' di car boosting Bella sta zona qui No Bisogna fare il suo giochetto Ok Mi piace Buono Buono così Andiamo di qua Ci andiamo di qua Buono così Buono colì Andiamo 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 blazer Dobbiamo recuperare il terzo Raga Sao che sarà difficile Ma dobbiamo provarci Entriamo qui In quest'altro Tubo atomico Dov'è che dobbiamo andare? Non vedo nulla Meno male che non ci ho caduto Ah c'è un warride Si C'è un warride Bello Mantiene benissimo Warride Qui sarebbe essere impossibile farlo Con l'altro joystick Raga ci sono Guarda il personaggio Guarda il personaggio Fa il pazzo Attenzione ora non più Ora non più Dove sto andando? Stanno bene raga Spero di sì 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 Non posso fare stante Perché non me lo permette proprio il gioco Ok Entriamo nel tubo Quarta posizione Spero di aver recuperato Qualche tempo 1 minuto e 38 Dall'altro Mancano pochi checkpoint Raga Dove devo andare qua? No Ce l'avevo quasi fatta Sennò devo andare qua in mezzo In mezzo a sti cosi Eh sì raga Volevo fare il cittone Ci stavo per riuscire No Terza posizione Chiuso raga Ah che peccato Nike Z Nike Non cadere Mamma mia raga Attenzione di stile Sì Raga Avevo cittato tutto Incredibile Ce l'avrei fatta Porca Eva Sarebbe stato epico Altro checkpoint Credo siamo quasi alla fine Altro checkpoint What? È un troll questo Raga ho frenato però Sì Ce la facciamo Ci giriamo in volo Perfetto Blazerino Andiamo quasi in prima persona Per concludere questo episodio Ragazzi mi raccomando Lasciate un like E' ancora scendere giù Proviamo a fare un front flip così Altro Ok Dove è raga Questo Andiamo Andiamo col blazerino Impennando Chiudiamo In quarta posizione Purtroppo Niente podio Ma va bene così Ci vediamo Alla prossima video ragazzuoli Un bacione Un abbraccio Al vostro caro zio Alfix Ciao 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 Grazie.